bene ragazzi siamo gli elei benvenuti in un nuovo video oggi super ospite e se forse oggi sono su youtube e anche grazie a lui vieni alto ciao ragazzi benvenuti su youtube benvenuti veterano allora vabbè sicuramente lo conoscete presentati lo stesso ragazzi sono z da voi quest'oggi sul canale degli elei per provare questa challenge 5 shot challenge abbiamo anche un super portiere super portiere chiamato dalle mie parti il miglior portiere per quattro anni di fila della lombardia venga il signor stigliani e che stiglio quasi 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 pari anche non lo so non lo so così mi hanno detto così mi hanno detto va bene ragazzi immergiamoci in campo e che vinca il migliore allora anto pronostico secondo me vince lui vince lui mi ha detto che prima era stato capocannoniero della seconda categoria 27 gol io tipo per te io tipo per me vinci tu ah così 27 gol e in seconda categoria chi parte parti tu allora ecco vincio io dai riprendo la responsabilità allora parte luca è un vero attrafficante attenzione primo tiro da fuori bellissimo non è vero il terzo così non è vero occhio momento zv vediamo quando vuoi parte 1 su 1 subito e non è gol che spiga e non è gol portiere sta tanto fuori no mamma mia l'ultima bruno è arrivato lì il tavolo rimane a uno attenzione Sto pe tiro Il primo giro parte malissimo Il primo giro si ha proprio trasformato È diventato un mostro Dobbiamo rifare Turno di Andre Quanti hai fatto con te? Prevati 4 e 1, lui dovrà fare 2 o 3 Allora, se vuole rimanere il partito è 3 Guarda il giro Sparto di rigore Esattato Un partito un po' forte Oh, ancora Andre E due Un su due E' partito carichissimo Un partito carichissimo Un partito fermo E' un po' troppo detta Attezione E qui è stato Mattonella Mattonella Ma Mattonella E sono 3 L'avevo detto E' solo 3 Era la sua Mattonella Buono, 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 buono 4, 3, 1 Devo recuperare Chiarazioni Sei dentro, sei dentro Cazzo, sono ancora in gara Quella lì era la tua mattonella, eh Sì, è vero Devo far meglio se l'ultimo È già che sei in gara Arrivò, arrivò Momento di Luca, che è a 4 Secondo giro? Bello carico Dai, vediamo se riuscirà a portarsi a 9 Vai, quando vuoi Davvero attaccante Spiazzato nuovamente Subito, vediamo No, non ci ha fatto È ci ha fatto È ci ha fatto No Campolunghi sente la pressione Spiazzato Vediamo qua Occhio, perché questa qua è la palla decisiva, eh È una palla che scotta Vediamo Bello Si perde due Le stelle Somma di 6 Insomma di 6 Che non è male Non è male Non è male Non è male però Non sono tranquilli No dai, se va bene Tocca a me ragazzi Vediamo se riuscirò Ad avvicinarmi Devi fare 5 per arrivare a 6 Ho fatto uno Cioè, pochissima È il tuo momento, vai Rigore decisivo Bello Mamma mia Mamma mia Senza paura Attenzione Attenzione Nooo 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 Guarda, no È l'ultimo Ultimo tiro Attenzione Deve provare Buono lo stop Non ci credo Non è vero Non è vero Ma non è vero Io me ne vado, basta No, no, me ne vado Rimacca due Se fa più di 3 sono inguagliato Vediamo Primo rigore Ok, ok E andrea E andrea va a 4 Guarda, guarda, guarda Guarda Seconda Ancora E va a 5 No Carico Carico La manona Manaccia La manona Andrea E frattino va a 6 Il tiro del sorpasso Il tiro della tigre Questo potrebbe essere Il tiro della tigre Il tiro della tigre E andrea a 6 Quindi si è 6 Che sfida 6-6-2 Che sfida E tutto All'ultimo giro Incredibile Mamma mia Io e Luca siamo 6 pari Questo è un giro che pesa Pressione La senti? Ma 27 gol In seconda categoria Che pressione Il piedone Oh, subito a cannone Oh E questo c'è E questo c'è Gol d'attaccante Questo c'è Gol d'attaccante Vediamo questo Andare No Attenzione il palo salva Campolunghi Altro palo Altro palo Altro palo Ultimo tiro Bello Bel gol 2 ancora Che sfiga 8 Attenzione Perché Guarda il ghigno malefico Di Fratino Guarda L'ultima volta Che andai Il ghigno malefico Due pali Neanche in discoteca No Vai ZV Per la gloria Bello Lo spiazza E' tu Anto E' tu Mangialo Bravo Un'uscita Oh tanto questa volta esce e non è uscito Attenzione ZV Quarto tiro per lui E' vabbè Ma no Ma questo è un gol E' vabbè Ma non è vero Ultimo Può fare quattro No Attenzione Oh Ancora Ancora Ci riscatta Turno decisivo La sfida finale Qua si decide tutto Attenzione Io ti ricordo che Ho detto che l'avresti vinta tu Eh devo confidarne il portiere Perché Andre il piedino ce l'ha Vediamo il rigore Attenzione Ok Ok Parte bene Parte bene Parte sì 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 Dai C'è una speranza Attenzione Se il portiere fa il miracolo La tua mattonella Andre Dai Dai Non ci credo Non ci credo Portiere immobile Glaciale E Andre va a otto E Andre va a otto Ultimo tiro Attenzione L'ultimo tiro per la vittoria Per la vittoria Per la gloria La mette giù di punta Se la sistemo Pronti Si decide tutto Allo spareggio tra me e Andre Ed è subito competizione Tra noi due Ragazzi Allora Anto Siamo pari La decidiamo i rigori Tra i rigori a testa E che vinca il migliore Tosta Tosta I primi litigi sul canale Oh guarda che se perdo Fai più parte degli ELEI Allora Luca Il rigore decisivo Qui si vede se è un fuoriclasso meno Che pur si non ha paura È incazzatissimo il portiere E niente E niente Ride Frantino ride Perché sa Che non sbaglia E infatti Cinico 1 a 0 E vabbè è finale questa Eh chissà ragazzi Chi vincerà Scrivete un commento Prima di finire il video Secondo voi Chi vince Frantino O campo lunghi Rigore importante Oh vabbè 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 Non ho presso Non ho presso Così Il cucchiaino Il cucchiaino Bisogna Bisogna animare È giusto Lo vedevo troppo gasato Come Pirlo d'Arte Bravissimo Però sono ancora Sopso Deve sbagliare Andro Respiro Io ho provato a prendere fiducia Mi è andata bene Ma adesso lui deve sbagliare C'è cosa che si ferma Madonna Occhio perché se sbagli questo C'è un vincitore Bello questo Bellissimo Vediamo ragazzi Se sbaglia Se sbaglia ho vinto Attenzione Luca Oh Giorginio Non è culta neanche Non è culta Adesso è di prendere Tutti i piedi di Andro Vedremo Ti do questa responsabilità E ti voglio lasciarne La tua intimità Allora Prattino Ci scegna Ecco E allora E allora Subito Prattino 1 Luca 0 La sfida continua Perché ce ne saranno tante C'è grande competitività Ce ne saranno tante di sfide Bravo ragazzi Bravo Ragnar E niente ragazzi ho vinto Portierone Protagonista Mamma mia Ma l'importante era battere lui Soprattutto protagonista E' vero E' vero E' vero E' vero Sono stato sfortunato Ma va arrivato E' solo iniziata la battaglia Esatto Bella sfida dai complimenti Ragazzi mettete like Dimitevi Iscrivetevi al canale Bella Ciao ragazzi Ciao 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 Ciao